La mia esperienza è sicuramente positiva. Sono arrivata con un grandissimo punto interrogativo disegnato nella mia mente e quindi tutto quello che ho vissuto è stato bellissimo. Bellissimo perché non avendo aspettative è stato tutto nuovo e meraviglioso. Prima di tutto quello che mi ha colpito è stato il sorriso di tutti i miei colleghi e questa è stata una cosa che veramente ha scaldato il cuore. Abbiamo imparato tantissime cose che mi accorgo adesso di aver imparato ma non ho avuto la distanza tra chi insegnava e noi che ricevevamo le informazioni. Mi accorgo che ci sono tantissime emozioni, tantissime informazioni e questo connubio lo voglio sicuramente portare in associazione perché questo mi darà gli strumenti per poter programmare, organizzare per quello che riesco e soprattutto per far vedere che Ampas non ci lascia soli. Siamo parte di un gruppo di Ampas.